Ad un mese e mezzo dall'inizio del suo mandato, Massimo Bitonci ha rivoluzionato Padova e lo ha fatto perché, come già aveva promesso in campagna elettorale, ha voluto creare una discontinuità con il passato. Il primo cittadino del cambiamento, colui che si è definito sindaco di tutti, ha voluto dal primo giorno ascoltare le istanze dei singoli cittadini. Qualcuno gli ha chiesto se si ricordava il giorno esatto in cui aveva pensato di voler essere il sindaco di Padova e lui ha risposto «Ero in via Facciolati il 24 giugno del 1965, giorno in cui sono nato». Dopo dieci anni di governo di centro-sinistra, il sindaco leghista non ha atteso molto prima di mettere le mani tra i faldoni ereditati dall'amministrazione precedente. Così, al ridimensionamento del numero degli assessori, ai tagli delle auto blu e delle indennità, si sono aggiunti la diminuzione dell'IRPEF dello 0,1%, l'abbassamento della tasi sulla prima casa, la revisione dell'ordinanza sul consumo di alcolici, il no al nuovo ospedale. Interventi a cui è seguito l'obbligo del crocefisso nelle scuole e negli uffici pubblici, nonché provvedimenti contro il fenomeno dell'accattonaggio e controlli a tappeto nei campi nomadi. Di oggi, poi, la notizia del no di Massimo Bitonci è qualsiasi tipo di accoglienza verso gli 800 profughi in arrivo in Veneto. Questa mattina ha avuto luogo il summit in prefettura Venezia, dove è stata ribadita la necessità da parte del Ministero dell'Interno di utilizzare per i profughi casarme dismesse ma vivibili, tra quelle designate anche la Romagnoli di Chiesa Nuova a Padova, una location che però non sarà concessa dalla giunta di Palazzo Moroni, che ha ribadito la sua contrarietà all'uso dell'ex caserma come hub veneto di riferimento per i richiedenti asilo. Non siamo disposti, ha detto il primo cittadino di Padova, ad incrementare il numero di ospiti a fronte di centinaia di padovani che quotidianamente si rivolgono agli uffici del Comune per chiedere aiuto. Siamo pronti ad azioni plateali contro uno Stato che dimentica i propri figli e i propri padri. Non accetteremo di doverci piegare agli ordini.